Un capo che è la mia amministrazione, dovete dire che nel marzo 2018, sono cose che voi avete sentito il consiglio comunale? Non l'abbiamo saputo perché se no noi entro 60 giorni potevamo appellarci. Dobbiamo purtroppo farvi ricredere, ci furono delle riunioni in fase di approvazione del regolamento comunale. Ma la commissione di mercato dov'era? La avete per caso invitata a questa cosa? Con una commissione ancora più elevata, la commissione comunale delle riunioni. Ah ma noi non ce l'avete neanche indegnato, neanche di sapere. Tu eri là che stavano facendo questa cosa? No, quando hanno usato le cose non sapeva niente, io non sono mai chiamato. Quello era per trovare, per provarci. Ma si parlava per i cambi di panini, ricordi? Era per i cambi di panini. E poi non ci avete più invitato a un certo punto. Infatti la Gianni dice Rino, ma te l'hai detto qualcosa? No. Sto peccati all'era vado qualcosa. Come devo vedere i verbali. Può vedere, bravo. Se tu guarda i verbali, esatto. Per quanto riguarda le leggi, vi siete un po' informati su tutte le leggi del trasferimento, cioè del 2019 con le nuove normative, cioè la vendita alimentare di prodotti freschi, se devono avere polli fatti con tutte le bombe che avevano scoppiato, avete fatto tutto questo. Perché so che ci vogliono colonnine con la corrente, con i nuovi mercati? Allora, di fatti, in quell'aria, una volta che noi riusciamo a sistemare le corse, sono già pronti a fare i punti di acqua e i punti di luce. Certo. È evidente che i camion attrezzati già sono attrezzati per condolore. In quell'aria sono stati stabiliti i posti dei quattro camion e che hanno attività con le bombole che sono messe nei punti più disparati, per cui per la sicurità ci siamo. Sì, ma le bombole non potrebbero stare a livello di sicurezza. In un mercato, un bombole, si scoppia una bomba, ammazza, a Gera mostrano persone. Infatti, per questo sono stati messi nei suoi giornali. Allora, dovrebbe fare Gera Rossa che stai chiesto a curenda questo punto. No, ma siccome parliamo di sicurezza, signori miei, quando parlo io di sicurezza, e c'è una votazione in un consiglio, io presento un progetto. Ma quando io presento un progetto, non presento un progetto, guardiamo sull'ambulante casomai e dicono sì. No, scusami, i mercatali. Dicono sì. Allora non cercare di fare i colonnini, di fare i presi d'acqua. Io mi faccio un mio progetto se sono a regola. Mi faccio tutti i punti di luce, tutti i punti di acqua, tutte cose e poi dopo mi faccio la votazione. In una settimana tutto i punti di acqua. In una settimana. Ma voglio dire, ma come stiamo facendo queste leggi a piano piano? No, perché stiamo approvando piano 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 piano. Ma non avendo avuto la vostra collaborazione? Ma conto o no la nostra collaborazione? Ma conto o no? Io non stai capendo niente. Conto o no la nostra collaborazione? E finora non ci avete chiamato mai. Come mai? Ma la commissione di mercato non esiste a Lentino. La dovevate fare...